Musica Nell'anno del Signore 2016, domenica 17 gennaio, alla presenza di Sua Eccellenza e reverendissima Monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, del reverendo sacerdote Enrico Mangiri, parroco delle parrocchie di San Marco Evangelista in Cavernago e di San Giovanni Battista in Malpaga, delle autorità civili e dei fedeli tutti, ha avuto luogo il rito della benedizione della posa della prima pietra, dell'erigenda chiesa da dedicarsi ai Santi Giovanni Battista e San Marco Evangelista e del nuovo centro pastorale. La pietra conserva al suo interno una manciata di terra proveniente dalle due parrocchie, a significare il desiderio di continuare il cammino comunitario intrapreso. La pietra verrà collocata sotto le fondazioni proprio in corrispondenza dell'altare, quindi dove c'è l'altare sotto le fondazioni ci sarà questa pietra che non verrà più comunque toccata e resterà proprio a fondamento di tutta la chiesa e quindi di tutto il centro pastorale. Padre Santo, benedici questa prima pietra che noi poniamo nel nome del tuo figlio nato della Vergine Maria. Pietra annunziata dal profeta che si stacca dal monte senza mani uomo, fondamento immutabile proclamato dall'Apostolo. Fa che il Cristo Signore, da te costituito principio e fine di tutte le cose, sia inizio sviluppo e compimento di questa nuova costruzione. Egli che vive regna nei secoli, nei secoli. Egli a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.